Con l'arrivo del nuovo socio privato, cosa cambia la Teramo Ambiente e la partecipata che ha in gestione l'igiene e la raccolta dei rifiuti del comune di Teramo? Tutto e niente. Intanto la Comir di Stefano Gavioli, che su disposizione del giudice fallimentare di Venezia ha acquisito il 49% delle quote Team, non è affatto nuovo. Era lo stesso Gavioli di prima, lo stesso socio che allora si chiamava EnerTech, azienda poi fallita. Da oggi però in Team c'è una nuova governance. A deciderlo l'Assemblea dei Soci, il comune di Teramo e Mote, la parte pubblica che detiene il 51% e la Comir. Nuovo amministratore delegato è stato nominato Enrico Prandin, revisore legale veneziano che sostituisce Pietro Pelagatti, in carica dal 2017 e che affiancherà il presidente della Teramo Ambiente, Luca Ranalli, designato mesi fa dal sindaco d'Alberto. Prandin si dice soddisfatto di poter tornare a gestire la Team, promette di lavorare a fianco del comune per rendere sempre più efficienti i servizi offerti. Sul piano della riduzione dei costi, pur ritenendola indispensabile, il nuovo amministratore delegato non parla però di esuberi di personale. Il primo nodo sarà quello dei crediti inesigibili, dopo che il collegio arbitrale, richiesto dalla passata governance, si è dichiarato incompetente in materia. La somma si aggira sui 3 milioni e mezzo di euro che la Team richiede al comune di Teramo, ma che il comune contesta. Il sindaco d'Alberto assicura che si troverà presto una soluzione, ma chiede anche che si riveda lo statuto della partecipata per un riequilibrio tra soci. Per d'Alberto infatti non si può prevedere il 51% di quota pubblica e poi permettere che a decidere tutto sia invece un privato.